già visto e vi dico solo di non aspettarvi chissà che cosa vecchio guarda ti dico dal trailer che hanno fatto io ero gasato quindi spero 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 invece in grandi cose vediamo un po vediamo un po let's go vi leggo e vi vedono anche in chat finalmente ok bellissimo il logo della nintendo comunque molto funzionale mi piace un botto da grafico vi dico mi tengo vicino al mike che magari se così mi sentite queste animazioni belle cosa erano quelli raga scusate wow bella di una nuova forma fiori forse non ho probabilmente forse veleno terra sarebbe molto figo va bene qua poco che abbiamo già visto questa cinematic l'avevamo già vista raga si sente bene l'audio comunque vero ok ok ecco leggendari sembravano quasi di essere dentro gta raga basta un attimo il volume sembrava di essere dentro gta fiori che quando va tipo a scelle rivestiti fiori ok tipo moto avevano detto che poterà essere tipo vabbè riprendeva un po la moto io mi aspettavo che però cambiassero forma così un po cioè stanno correndo sta correndo con le mani e però alla ruota sotto lui almeno un po più funzionale quello lì violetto in questo caso che quantomeno diventa veramente una moto li corra boh ok ok poi scalare per su va bene tipo hanno ripreso sniso lo aveci sta come meccanica ma quindi te lo danno da subito praticamente ma allora qua molto più bello ritorna di nuovo scarlato in proposition qua come vola ciao peccato che non ha la coda fa un po ridere vabbè dai ovimì sì vabbè dai ci sta ci sta comunque faranno un botto di meme su sta roba ragazzi è un è un altro regionale è un nuovo pokemon quello adriano intanto ma quello lì che cacchio è raga ora adriano qua ragazzi pronto per pokemon unite che cacchio di pokemon è ragazzi questo qualcuno lo sa in chat la culture rich culture bella albian benvenuto bro incontrare i pokemon vabbè questi abbiamo già questo nuovo pokemon raga non so se l'avevano già rilasciato io non l'ho visto mi sa ancora per fortuna già slacot il king della sito avrà sarà contento tanti personaggi speriamo raga nella storia questo punto belli design belli design belli design dei capi palestra belli questo non so chi sia però bello design sembra un cattivo questo qui raga ispirato al 2020 raga cos'è vecchi vabbè dove andrete boh con la mia moto vado ovunque in penno anche ma ma però strana la situa questi sono i professors bello che poi probabilmente customizzare la sito come su pokemon go sembrava un nato di spalle ci sta nuovi pokemon a manetta stanno mostrando ragazzi questo non ha una forma una forma regionale di qualcosa che io non conosco vabbè giustamente ci sono le moto anche le macchine o scusate se metto tanto pausa va bene i nostri starterini crazy lui si fa la mela cotta ok questo qui è la partita in quattro quindi che si fa la ventura in quattro stai dicendo come quindi ci sono i leggendari che si moltiplicano no lo zaino di ivy molto figo infatti tom ha preso bene anche a me però gli scenari sono molto belli anche i pokemon che hanno scelto qui molto belli sono molto curioso di vedere questo che su pokemon go ancora appunto non si è potuto provare almeno io non l'ho potuto provare questi invece mi piacciono veramente molto tutti anche il nuovo design di quel porcellino allo scambio pare che la meccanica di gioco come avevo detto non è cambiata intanto ha perso nido rininciato mi invito a prenderlo fate tesoro della vostra avventura wow che cacchio è che cos'è che cacchio è alla nuova forma raga con tutte le luci le cose nuove evoluzioni dici bo bo raga che cacchio è sta roba fioi speriamo sia innovativa per il game gioco io raga voglio iniziare a fare anche un po di competitivo da questa stagione anche la pallina diventa così oh si trasformano allora allora una roba che hanno mostrato molto fioi che di solito non mostrano sono appunto i leggendari l'abbiamo visto veramente molto protagonisti del trainer la cosa non mi apre niente di spiaciuta continua a preferire quello di scarlatto io raga c'è molta più roba sul pokemon presence vediamo un attimo se lo troviamo ok raga si si legge comunque raga c'è si passa veramente la tecnologia al mondo medievale cose che riprende anche diciamo i leggendari quindi ci sta ok raga no hanno spoilerato i nomi io non li sapevo molto figli va bene va bene si comunque hanno ripreso il game di isui ok vabbè si classico allora diciamo che su isui avevamo vari pokemon qua hanno messo un solo pokemon che è quello leggendario che fa tutto vabbè siamo un po che trasporto vabbò oh questo è già interessante mi piace create la storia che preferite ok si ci hanno detto che andiamo a scuola accademia dell'arancia tutta la vita fioi vitamina c ok treasure hunt sembra la vostra hunter fioi mamma mia che cacchie di scritte hanno qua altro che questo non è cambiato sempre otto palestre vedremo se ci saranno nuovi tipi di palestre raga comunque mi disturba troppo che non ha la coda il pokemon di scarlato potremmo mettergliela challenging the gems chart your very own course along victory road ok comunque non ci stanno mostrando altri pokemon nuovi fammi riprendere il trailer non mi è piaciuta troppo sta barra io ci sono io sopra raga c'è la barra della vita del pokemon la grafica mi sembra peggiorata boh questo non lo so lo vedremo in game ricordiamoci che un open world speriamo non abbiano settato troppo in basso il frame rate ma non mi interessa troppo l'esperienza di gioco anche su islam era piaciuta la cosa che mi spaventa che non è c'è che la storia non possiamo decidere a noi c'è che le scelte siano sì le decidiamo noi ma che alla fine ci porta sempre nella stessa direzione nella storia vedremo ma ovviamente andiamo dalla professoressa noi con scarlato raga ve lo dico già si gola con oli in tutta la vita fiore sto qua che cacchio vuole io ci dà le notte non andremo mai da lui ciao braderino mamma che occhiali stilosi ciao boy bella lì ciao nemi bella per il peperino nella sito oh pepe ti hanno fatto il personaggio su pokemon bro è un ottimo cuoco raga è il mio coinquilino fioi l'hanno messo dentro il gioco ragazzi attenzione ma aspetta chiara l'ultimo ragazzi più stiloso penny la più stiloso l'alternativa raga nella situa bella gruscia ok ok perfetto parlano anche dei pokemon interessante mamma i rotum così eccolo qua no raga l'avevamo visto nel trailer prima infatti a terra veleno raga si vola bello carino sarà folletto ghiaccio raga sarebbe interessante vabbè tre starter lo so fede ma sta trollando bradrino ricordati che anche noi comunque ne abbiamo dieci nell'avventura quindi dobbiamo rimanere nel personaggio il pro in quaxley quaxley ci sta enjoy meeting lots of pokemon beh bellini questi per il momento no gli annunci proverino un nuovo gioco vediamo un po' world of work of traga ma che pubblicità mi fanno tengo duro tranquilla ok multigiocatore orribili gli starter guarda gli starter anche secondo me non sono molto belli io vado per il blu perché mi piace mi piace l'acqua paperino poi sbacca you can enjoy co-op play speriamo non lo vino troppo you can go look for pokemon you haven't yet discovered or even ride together to race across comunque ho visto adesso sulla chat la grafica leggermente migliorata la grafica mi sembra peggiorata assurdo vabbè qua fanno le gare con le moto che ci saranno gare ovunque oh vediamo un po' sto misterioso fenomeno terra stalla ok sono molto curioso non so cosa dire per il momento perché è l'aggiunta al game adesso nuovo quindi tutti i pokemon possono fare sta roba a quanto pare infatti ecco qua appunto ce lo confermano ok molto bello raga devo dire come hanno sicuramente fatto una collezione con svarosky come ha detto fede pala top anche secondo me è bello ok ah quindi cambiano anche il tipo quando si terra tipizzano ok invece abbiamo visto prima abbiamo visto che c'era un drifting che era diventato di tipo fuoco raga mentre si tetra cosava infatti lui è diventato terratipo fuoco quindi aggiungono un terzo tipo ci sarà un terzo tipo o toglieranno cioè cosa succederà cioè cosa succederà sta diventando avengers bella pro riuniamo tutti e concludiamo il world ok queste qui diciamo che sono le cose delle mega ride le hanno semplicemente riprese niente di che questo se posso dire non è innovativo si si va boh meglio che non dobbiamo aspettare le nostre aliatiche magari sono andati in bagno e spediamo 30 anni vabbè classico raga come in tutti i rai di pokemon go in tutti i rai di qualsiasi cosa vabbè classico io non riesco a vedere sapere facciamone nessuno che ieri non l'abbiamo fatto certo pieno adesso arrivo su facendo lo stesso tempo oh calmina che ancora non sappiamo se è detenuto tutto ma ce l'ha la coda e perché non si vede nelle animazioni tenete la coda al pokemon di scarlatto poverino che non si vede la sua coda poverino bistrattato tu fratellino eh certo che li preordiniamo fratellino tranquillo parlando del trailer non mi è dispiaciuto troppo voglio vedere che cos'è questa cristallizzazione se aumenta un tipo in più cioè ci saranno tre tipi la cosa inizia a essere molto interessante perché cambierà proprio le dinamiche di gioco anche anche alla ricerca di questi pokemon con il terzo tipo quindi vedremo un po' come se la giocano vedremo un po' come se la giocano un po' come se la giocano Grazie a tutti.